Appena finito l'allenamento 25 Oggi ho notato durante gli squat che riuscivo a localizzare il dolore nelle gambe e lasciarlo lì, isolarlo lì e far sì che il dolore alle gambe non diventasse una sensazione di tutto il corpo ma solo di quel muscolo lì localizzato e in questo modo riuscivo a essere più lucido mentalmente e a finire gli squat senza grossi problemi Il dolorino al gomento destro sta sparendo e invece verso la fine nelle ultime trazioni ho sentito lo stesso identico dolore ma al gomito sinistro ma piccolo piccolo, proprio quasi impercettibile, però ho sentito una sensazione simile Sto cercando di tenere duro, mancano solo 5 allenamenti Ci vediamo domani per l'allenamento 26 Peace! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.